Cari amici di Necatero Web, siamo con Vito Antemi, dirigente provinciale del PD e siamo nella sezione del PD di Necatero. In tutta Italia il 25 ottobre si terranno votazioni interne al PD, queste elezioni ci saranno anche applicate. Vito Antemi, che cosa terrà il 25 ottobre? Il 25 ottobre e domenica saranno invitati tutti i colori quali sono gli elettori del PD a esprimere la loro preferenza per uno dei tre candidati di segretario nazionale o uno dei tre candidati da segretario regionale del PD. Potranno venire a votare tutti coloro che hanno già più di 16 anni d'età e ovviamente tutti gli elettori che hanno già espresso il loro voto per il PD nelle scorse elezioni. Occorrerà presentarsi con una carta di identità e versare un contributo di 2 euro. Contestualmente bisognerà sottoscrivere l'adesione alla linea politica grammatica del PD in modo tale da poter consentire anche la realizzazione di un database che servirà poi per ulteriori contatti che noi come sezione di unicato in particolar modo, ma come il PD in genere, avremo la possibilità di poter contattare i nostri elettori, i nostri simpatizzanti. Quindi questo è quello che avrà. Si voterà da le 7 di mattina fino alle ore 20, presso i seggi allestiti in ogni comune. Noi Gattaro voteremo qui in via Consiglio Cositano, presso la sezione del PD. del PD. Perché è importante votare? Perché è importante partecipare? Perché bisogna invitare la cittadinanza a avere questa iniziativa di partecipazione? Ecco, l'adesione ad esprimere questo voto è una forma la più ampia di partecipazione sia dell'elettorato ma sia della sovranianza. Noi vediamo che non solo nella prima fase di questo congresso che porterà alle elezioni del segretario nazionale e dei vari segretari regionali. Abbiamo visto che questa prima fase si è svolta all'interno delle sezioni, tra lì i soli saliti del PD. La più ampia partecipazione che aprimo domenica 25 consentirà per la partecipazione stessa che riteniamo che sarà cospicua, che sarà numerosa, riteniamo che darà questa grande partecipazione di cittadinanza, darà la possibilità al PD, quale è la principale forza di opposizione al governo del PD, una possibilità di poter esprimere un riconoscimento politico della linea politica, della linea che il PD si prefige di portare avanti. 25 ottobre, dalle ore 7 alle ore 22, via Consolo e Positano, sarà possibile partecipare e aderire questa manifestazione. Carlo Picca alla voce e Giovanni Di Battista alla telecamera per la partecipazione di corno alle ore 22, via Isolene. Grazie a tutti per la partecipazione di corno giù